Vansi di una pizzeria a Cagliari, siamo in corso Vittorio Emanuele e andiamo da One Piz Per 3 euro ci hanno dato questa confezione con cose non molto invidanti, devo essere onesto Magic Box un po' sus, ma proviamo questa roba Il primo, qualsiasi cosa sia, sa di calcestruzzo armato e frustrazione Forse aprendolo dentro è anche peggio, c'è pomodoro con patate, cos'è questa roba? Il secondo, già meno lamentabile, sapeva solo di cipolla in realtà, però già qualcosa Mentre il terzo era veramente too much, solo cipolla e anche brutto Pareva pure scaduto perché aveva un sapore, no proprio no 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 regà Diciamo che mi sono consolato col secondo che era meno peggio Ricordati di seguirmi su Instagram peraltro